Allora, è pronto per questa nuova avventura? Sì, siamo pronti, carichi. Stiamo registrando mese per mese quattro puntate per Antenna 2. È un format particolare, come l'abbiamo noi definito noi della produzione, un format scansonato, dove ci saranno comunque riprese interne e esterne. Sarò accompagnato da diversi personaggi, in questo caso le prime quattro puntate da una tecnologa alimentare, una dottoressa Simona Laura Pedretti, che mi accompagnerà per le prime quattro puntate. Non è semplice parlare di cucina oggi, quando un po' se tutti i canali ci sono trasmissioni che portano gli obiettivi televisivi dove ci sono i fornelli e i piatti in preparazione? Certo, oggi come oggi è difficile. Abbiamo creato un format, speriamo di aver creato un format diverso dagli altri. È difficile, perché comunque tutti questi format sono un copia e un colla di queste trasmissioni. E la location? La location? Abbiamo scelto una bellissima location, il Castello Batù a Vigevano. È una stupenda location, dei primi del 1800. È veramente carina, antica. Abbiamo una struttura bella, abbiamo voluto fare questo per dare qualcosa di diverso a chi ci segue, alle massaie e non fare delle riprese all'interno di cucine professionali dove io lavoro. Ma come si vuole presentare al nostro pubblico? Lei è uno chef. Sì, ma io voglio presentare naturalmente cercando di replicare, di presentare piatti replicabili, non piatti della tradizione. Quindi non fare piatti da novel cousin dove la gente che ci segue non può replicarli, insomma. E cosa ci vuole dire del suo percorso? Nel mio percorso. Io ho iniziato tanti anni fa come chef e faccio sempre aggiornamenti grazie all'associazione Cuocchi Milano e un giorno abbiamo pensato di fare questo format televisivo e abbiamo detto perché no proviamoci anche noi.